Intro Hi guys e benvenuti in questo nuovissimo video Bentornati su Titans Revolt con il 21esimo episodio Allora, dobbiamo tornare assolutamente nel punto in cui siamo morti alla fine dello scorso episodio Peraltro veramente una morte che più stupida non poteva essere Perché me l'aveva anche detto il creatore della mappa che nel nether i letti esplodono Me l'aveva ricordato e io ho detto ma vabbè ma figurati se siamo nel nether Mi sono perso a che distanza pensavo di sicurezza per poter evitare l'esplosione se ci fosse stata l'esplosione Ma invece non è servito a niente, siamo morti lo stesso malamente Purtroppo temo che il nostro inventario sia andato perduto perché esplodendo il letto è partito tutto il fuoco E sono abbastanza convinto che abbia bruciato completamente il nostro inventario Comunque la maggior parte per questo come vedete mi sono preso un po' di roba Speriamo non sia così perché se no abbiamo perso un bel po' di cose tipo due piccoli in ferro Il secchio e sarebbe meglio non averla persa la roba Ah peraltro ecco infatti mi sembrava di aver dimenticato qualcosa non ho preso un arco Vabbè ce la dovremmo cavare senza arco per il momento Fortunatamente avevo messo qualche protezione per non farmi colpire dagli scheletri Oh raga peraltro lì c'è una cesta non l'avevo vista Quella andiamo a recuperarla immediatamente Da che parte posso andare? Lì c'è un passaggio Sì non è che abbia tutti sti blocchi eh Peraltro gli scheletri è veramente rischioso quello che sto per fare Ma a questo punto ci si prova raga Ok 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 grosso errore grosso errore Ho fatto una caduta non avrei dovuto farla non avrei dovuto farla Mi serve la pozione della velocità Porca miseria porca miseria Ma perché un episodio non può mai iniziare in maniera tranquilla ragazzi? Nel frattempo ne approfitto per salutare K Giovinetti Che me l'aveva chiesto sotto un paio di video fa Lui è il capo della gang dei moderatori Nella live scorsa era l'unico dei moderatori che è stato presente per tutta la live Ok proviamo a recuperare il nostro inventario Anche se ho visto che c'era un buco che finiva nel vuoto Vediamo se ce l'abbiamo Ecco ci mancava pure gli scheletri Comunque se siete dei moderatori e non siete venuti nella live dell'altra volta Se non venite nella prossima vengo a casa vostra e vi spezzo le gambe raga Ok ok fortunatamente la nostra roba non è caduta di sotto Questo è un grande Oh madonna santa quanto ho rischiato Quanto ho rischiato raga No 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 scherziamo Ok non c'è tutto Purtroppo abbiamo perso le torce Il legno fortunatamente ce l'abbiamo Abbiamo perso anche il cibo Dannazione Siamo messi veramente male Mi sa che mi tocca tornare indietro ma voglio andare Se non mi prende quello scheletro sono fortunatissimo Ok a questo punto voglio andare a prendere quella cesta Poi mi sa che bisogna tornare indietro perché non ho cibo Che bello che bello raga che bello Io non chiedo tanto ragazzi Chiedo solo un episodio di una ctm Cioè tranquillo Farlo tranquillo come i primi I primi a parte i primissimi Poi ci sono stati un paio due tre episodi che erano tranquilli Invece adesso basta raga Cioè è finita Ok questo ne metto per quanto sia di Di pelle sembra abbastanza potente Quindi lo prendo volentieri Ah guarda un po' Ho visto dove stanno gli spawner Vabbè però non li posso distruggere Allora raga io voglio provare ad arrivare almeno dove eravamo morti L'altra volta vediamo se è rimasto qualcosa del nostro inventario Nella speranza che non sia passato troppo tempo E che quindi sia scomparso E magari troviamo del cibo di là O troviamo degli zombie da eliminare Ok ok E vabbè Ovviamente si è distrutto completamente tutto Grandioso grandioso Siamo senza cibo Oh no mi sa che moriamo raga Purtroppo siamo in hard E quindi mi sa che appena finito le cosciotte Incominciamo a morire Rest stop Si va a fan bagno te rest stop Ma tu guarda un po' È una mappa Dentro una mappa Allora vediamo se troviamo del cibo Qui c'è la lava Qui c'è la lava GG raga è stato bello Ok siamo di nuovo più o meno operativi Diciamo che questo è il nostro cibo Poi si passa con le rotte in flash Gli scarpini di ferro Ormai non ce li abbiamo più Questo è l'ultimo piccone di ferro che posso farmi Ho già finito il ferro È fantastico Sapere che in meno di un episodio Abbiamo già buttato via tutto il ferro Che abbiamo faticato veramente tanto a prendere Veramente ti fa venire tanta voglia di giocare a Minecraft questa cosa Queste sono le ultime torce che ci rimangono Non ho più legno Non ho più cobblestone Non ho più niente Non ho frecce Non so perché ho preso l'arco giusto così Perché magari ora ci mogliamo qualche freccia uccidendo degli scherzi Ci siamo messi veramente malissimo Vi ricordo che questo sabato ragazzi siamo in live Sempre alle 2 Stavolta però la live sarà probabilmente più corta Anche perché sono veramente presissimo dallo studio Quindi penso che farò una live solo di 2 ore E vabbè a questo punto in realtà All'inizio pensavo di fare un episodio speciale della città Visto che abbiamo superato i 20 episodi Ma vista la situazione Penso proprio di no Faremo i minigiochi come al solito C'è un cartello che dice che di qua potrebbero esserci delle provviste E posso provare a fidarmi Ma non lo so Beh beh qui a parte il legno Non c'è niente Ah no c'è una cesta Oh merda Ok ok ho tre cuori Malissimo malissimo Ok abbiamo una cetta So cosa ci possa servire Del legno del legno E niente raga Non so che fare Sono Sono già incasinato Aiaiaia Un bel problema Un bel problema Come faccio a tornare su raga Oh lì c'è una strada C'è una strada Ho trovato una cesta Abbiamo una spada Abbastanza potente Per il zombie La posso usare adesso E un arco con gli infinity Il problema è che io non ho neanche una freccia Come si fa a uscire però da questo posto raga Cioè seriamente Seriamente Ci sarà una strada Per uscire Aiuto Oh aiuto Aiuto Ragazzi ragazzi Siamo nei casini Siamo nei grossi In grossissimi casini Ok Vediamo da quest'altra parte Che cosa c'è Comunque questo è l'ultimo tentativo Che faccio ragazzi Perché ormai non ho veramente più niente E quindi veramente È davvero l'ultimo tentativo Prima della resa Oh caspita Pure silverfish No però Oh mamma mia Ok Ho trovato una cesta Una pozione Di resistenza al fuoco Vabbè Direi grande ricompensa Per tutto sto casino Ok Andiamo di qua All'ultima strada Che rimane Vediamo cosa succede Oddio Oddio quanti mob raga Cioè È dura È dura Veramente Veramente dura Ok Cosa devo fare qua Non vedo nulla Nessuna strada Sinceramente Corriamo un attimo Esploriamo veloce Molto velocemente Ok ok Qui c'è una strada 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 Penso che sia un labirinto Perché i cartelli dicono Che potrei perdermi C'è del ferro Bene bene C'è del ferro Ok Qui abbiamo una piccola base Con una cesta Un po' di roba Oh grazie Una di queste Perfetto Cobblestone finalmente Ok Della roba ce l'abbiamo Questo Non so che cosa sia Ma lo prendiamo Del cibo Grandioso La bussola sinceramente Non so a che cosa serva Ma Il ferro e il carbone Che ci sono qua Ok in questo momento Mi sembra tanto Di essere Minecraftita Esplorare una caverna Molto strana Ultima mela Poi torniamo con le rotten flash Purtroppo Non sono equipaggiato Per un dungeon In questo momento Dove esserci un'intersezione Non un dungeon Qua c'è un altro bottone Magari sono le nuove bottigliette Potrebbe essere Li vedo dei mob Abbastanza forti Ok Non so in che cosa Ci stiamo imbarcando Ma Boh Non mi piace affatto Non mi piace affatto Ho trovato una cesta Forse siamo nella strada giusta Allora C'è una bottiglia E questo Alla grande Queste non so che cosa farmene Qua c'è una tunica Con Robe strane Vabbè direi di provarla Vediamo che cosa combina Speriamo sia la strada giusta Però Aia Ragazzi Direi che il video Può finire qui Mi spiace veramente Ma Penso che questo Sia l'ultimo episodio Della CTM Io Mi arrendo qua Non so più come andare avanti Non abbiamo più niente Per andare avanti E' tutto un casino Ragazzi Non siamo più equipaggiati Per avere un minimo di equipaggiamento Anche solo di cibo Legna E materiali Per costruire Quindi proprio il minimo Essenziale Purtroppo dovrei farmare E in questo momento Tra lo studio E il resto Non ho tempo di farlo Quindi Diciamo addio A questa CTM Al 99% Delle probabilità E' stata veramente bella Ne farò sicuramente altre Poi sul nuovo canale Ditemi Che cosa posso portare In alternativa Alla CTM Per questi ultimi tempi Su questo canale Che peraltro Penso siano abbastanza brevi Teoricamente I lavori Per il nuovo canale Dovrebbero essere Quasi pronti Quindi in realtà A breve ci spostiamo Sul nuovo Quindi Semplicemente Ditemi Per sostituire La CTM Che cosa Quali video vorreste vedere Oltre ai minigiochi A Brawl Stars Eccetera Detto questo Mi raccomando Se il video vi è piaciuto Spolliciate Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E attivate la campanellina Per rimanere sempre aggiornati Su tutte le notifiche Seguitemi su Instagram Iscrivetevi al nuovo canale Che trovate qui sotto In descrizione Ecco la fase chiude Ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti